Siamo qua praticamente nella parte dedicata all'audio di Samsung, c'è qua l'operatore di Samsung che adesso gli ho detto di mettere al massimo la cassa, qua sopra c'è un display o lento, vedete? Tra l'altro è il touchscreen, vedete come è pompa? Praticamente c'è tutta la sala che è praticamente girata a sentire questa canzone, l'audio è davvero fortissimo, forse farete fatica anche a sentirmi a me. Dici che è al massimo, ma io ci credo poco, nel senso che potrebbe andare sicuramente di più, senti che è l'amore! Septicicolo C'è la condizione C'èiaslo Vedete c'è anche la possibilità di metterli in coppia Vedete abbiamo lo speaker 1, lo speaker 2, lo speaker 3 Cioè lo speaker 1, lo speaker 2 Però abbiamo il gruppo Quindi abbiamo la possibilità di modificare il volume Restra, sinistra e anche insieme Quindi abbassarli contemporaneamente Fantastico Dai muoviamoci da altre parti Facciamo un zoom qui e andiamo avanti